Emergono nuovi dettagli sul decesso di una 57enne di Baronissi avvenuto all'ospedale di Salerno, a causare la morte o un'embolia polmonare, sopraggiunta dopo una frattura al bacino. Il sospetto è che l'embolia sia stata proprio causata dalla frattura. I familiari hanno sporto denuncia, la procura di Salerno ha aperto un'inchiesta, sequestrate le cartelle cliniche della donna ed effettuata l'autopsia. La 57enne avrebbe atteso al pronto soccorso oltre otto ore. Accusano i parenti per poi essere ricoverata nel reparto di orto-traumatologia. Nei giorni scorsi un altro paziente ricoverato a Ruggi d'Aragona, un 62enne di Napoli, in cura nel reparto di nefrologia è morto. Anche in questo caso i familiari hanno sporto denuncia, una situazione che getta ancora ombre sul nosocomio salernitano, dove i dipendenti sono alle prese con le denunce e le criticità, chiariscono i sindacati. L'utenza legittimamente può chiedere alla magistratura o agli organismi superiori ovviamente di avere chiarezza rispetto ai decessi. Questo è chiaro e ovviamente noi esprimiamo solidarietà rispetto a famiglie che hanno subito un lutto. È chiaro che questo fa parte ovviamente della questione sanità. Per Capezzuto è sempre più urgente intervenire per risolvere le criticità che affliggono i Ruggi d'Aragona. Io penso che invece la questione rispetto a pronto soccorso e reparti sia una questione organizzativa e anche agganciata alla questione reclutamento penso che sia il momento di sedersi veramente al tavolo senza alcuna distensione sindacati e aziende sanitarie per trovare delle soluzioni insieme perché è opportuno che ai cittadini si diano insieme delle risposte.